Salve a tutti e bentrovati, con il video di oggi concludiamo la nostra trattazione di Aristotele con le scienze pratiche e poi etiche. Tanto le scienze pratiche quanto quelle poi etiche hanno come oggetto il possibile e dal punto di vista etimologico i termini rimandano rispettivamente a prasso e poi eu dal greco, che sono entrambi verbi associati alla sfera del fare o del saper fare connaturato ad un fine. Cominciamo dalle scienze pratiche, ovvero l'etica e la politica. L'etica aristotelica è nota come etica nicomachea. Nicomaco era infatti il nome del padre di Aristotele, anche il nome del figlio di Aristotele, quasi Aristotele volesse sottolineare una continuità generazionale nell'impartire determinati insegnamenti che appunto rientrano nella sfera dell'etica. L'etica è la scienza del comportamento, è perciò uno studio razionale del comportamento umano, ovvero come l'uomo deve comportarsi per raggiungere una precisa finalità, il bene sommo che consiste nella felicità. Possiamo dire che nell'etica la felicità è il corrispettivo speculare della conoscenza nella teoretica e rimanda al concetto di saggezza pratica o soffrosione dal greco che significa agire bene in vista di un fine. Essere virtuosi per Aristotele significa essere felici, ma che cos'è la felicità per Aristotele? Uno scultore ha forgiato una splendida statua in onore di Apollo ed è felice. Un musico che ha eseguito alla perfezione una melodia è felice perché magari a fine esecuzione tutti gli hanno applaudito conferma del suo virtuosismo nell'arte della musica, ma un tale concetto di felicità è ancora troppo soggettivo e personale per poter costituire un'etica oggettiva. Dunque bisogna partire da ciò che l'uomo ha di particolare, quella caratteristica che lo distingue dagli animali, dal suo genere prossimo, cioè la razionalità. Si conclude dunque che per Aristotele l'uomo virtuoso, dunque felice, è l'uomo razionale. Aspetto quest'ultimo che ideologicamente lega Aristotele a Platone e Socrate, ai tre razionalisti per eccellenza, ai quali verranno rivolte specifiche critiche da Nice nel 1900, critiche dalle quali personalmente mi dissocio. L'etica agisce in una sfera individuale dunque, ma dal momento che lo stesso Aristotele definisce l'uomo animale politico risulta chiaro che l'uomo non può che vivere associato e perciò l'etica applicata alla vita associativa assume echi politici e diventa scienza di vivere secondo virtù nella polis, in vista del sommo bene. L'etica ci insegna ad essere virtuosi. La virtù è disposizione costante o abito ad agire secondo ragione e questo è il concetto fondamentale. Due sono le virtù fondamentali per essere felici, secondo Aristotele. Virtù etiche e virtù dianoetiche. Le virtù etiche consentono di agire correttamente per se stessi e nella vita associativa perché tramite la ragione ci portano, data una situazione da risolvere ad esempio tra due estremi opposti, a collocarci sempre nel mezzo, scartando gli estremi. Il coraggio è infatti la virtù di saper scindere l'estremo temerarietà, che non prevedendo la ragione ci porterebbe a correre rischi gravi come perdere la stessa vita, dall'estremo vigliaccheria che mi porta per paura a non agire. Il generale coraggioso in battaglia non è certo uno che si butta sul nemico privo di protezione o senza un piano d'attacco, perché quello è un temerario, né il vigliacco che abbandona i propri uomini sul campo per salvarsi la vita. Il giusto è nel mezzo. Oppure la liberalità è la virtù che mi consente di elargire donativi con moderazione perché a metà tra l'avarizia e la prodigalità. La mansuetudine ancora è la virtù di collocarsi nel mezzo fra l'irascibilità e l'indolenza. Ma la virtù etica somma per Aristotele è la giustizia, perché la giustizia ci consente di determinare sempre, indipendentemente dalla circostanza particolare, il giusto mezzo. E non a caso la giustizia, Aristotele dedica nell'etica un intero libro. La giustizia è per Aristotele universale. Non esiste giustizia particolare. La giustizia è il rispetto per le leggi. L'uomo giusto è chi rispetta le leggi. La giustizia ha dunque un significato generale, ma possiede anche risvolti specifici e può essere distributiva e commutativa. Distributiva perché lo stato giusto ha leggi digitali, per cui onore e denaro, sono equamente divisi tra cittadini. È commutativa perché l'infrazione di una legge, che provoca danno ad un cittadino, deve prevedere da parte dello stato una commutazione, ovvero il cittadino leso nel suo diritto ha bisogno di un tornaconto a compensazione del diritto leso. Se un ladro mi entra a casa, ruba oggetti di valore e me la distrugge tutta, lo stato deve assicurarsi che il ladro, commettendo reato, sia punito attraverso una pena commisurata all'entità del danno da me subito dal momento che mi ritrovo senza una casa e senza più una lira. Naturalmente un discorso di questo genere apre a questioni dell'ordine del diritto, che per Aristotele può essere privato o pubblico. Il pubblico a sua volta si articola in diritto di natura o naturale, che conserva il suo valore sempre, anche se non è sancito da leggi scritte, e diritto legittimo, che coincide con il corpus di leggi scritte o costituzione di uno stato. Naturalmente essendo il diritto legittimo frutto di una convenzione, il diritto naturale sarà sempre da considerarsi superiore, e qualora una legge scritta violasse principi naturali, la legge dovrà essere opportunamente riformulata, da cui il concetto di equità, che è correzione della legge mediante il diritto naturale. Di diverse entità sono le virtù dianoetiche, perché tali virtù non hanno finalità pratica, ma sono semplicemente orientate a soddisfare il desiderio di conoscere, il sapere fine a se stesso e riguardano ciò che è proprio dell'uomo, ovvero l'intelletto. Le virtù dianoetiche riflettono l'esercizio della ragione e si distinguono in arte, che produce gli oggetti, da cui tutto un interessantissimo studio che Aristotele ci lascia degli artefatti, saggezza, che dirige il comportamento, intelligenza, che deduce dai principi ed effettua le dimostrazioni, sapienza, che conosce i principi e le dimostrazioni e studia le realtà più alte e sublimi. Naturalmente le virtù dianoetiche chiamano in causa il concetto di bios theoreticos, ovvero vita teoretica, che secondo Aristotele è la migliore delle vite possibili perché significa vivere secondo ragione. Il teoretico è sapiente e il sapiente basta a se stesso e per questo è felice, in quanto non manca di nulla, vive cioè una vita che per quanto possibile lo avvicina al divino. Anche in questo Aristotele si distacca da Platone tuttavia perché per Platone saggezza e sapienza coincidono, per Aristotele no. Per Aristotele la saggezza ha comunque per oggetto le faccende umane che sono mutevoli, mentre la sapienza ha per oggetto il necessario che si sottrae ad ogni vicenda umana e non può mutare. Ricorderei in tema di etica il libro ottavo sull'amicizia, che tra l'altro la parte più nota dell'etica aristotelica e anche tradotta dai ragazzi al liceo nonché prova di greco per la maturità 2018. L'amicizia è da Aristotele trattata in maniera prettamente scientifica a differenza dell'impianto dialogico che ad esempio caratterizza il simposio platonico. L'amicizia è necessaria alla vita e l'amicizia, dal greco filia, ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Esistono varie forme di amicizia, c'è l'amicizia fondata sull'utilità che non necessariamente deve essere considerata l'amicizia degli sfruttatori. Nella relazione giovani-anziani, ad esempio, questo tipo di amicizia porta il giovane ad aiutare l'anziano, che magari ha qualche acciacco ma è ancora lucido con voglia di fare. Quindi l'anziano ha bisogno delle gambe dei giovani e il giovane ha bisogno per formarsi dell'esperienza e della saggezza dell'anziano. Dunque l'uno è l'utile all'altro in senso buono. Altro tipo di amicizia è l'amicizia basata sul piacere e sulla comunanza di interessi, che è una bella amicizia ma è soggetta al tempo e soprattutto al possibile vener meno di ciò che innesca il piacere di vedersi. Ad esempio, tanto tempo fa, quando frequentavo l'università, per l'esame di storia del cinema era prevista la frequentazione di un cineforum e naturalmente con il tempo si creavano amicizie, si guardava i film insieme, si mangiava insieme, si facevano tante cose insieme. Poi però, superato l'esame, ci si vedeva sempre meno perché magari bisognava preparare altri esami, altri esoneri e così via e alla fine poi non ci si vedeva proprio più. Ben diversa infatti dalle due forme di amicizia appena esaminate è l'amicizia fondata su un bene che è interno, l'amicizia disinteressata, che ti lega a qualcuno perché vuoi bene a questo qualcuno e vuoi il suo bene, indipendentemente da quanto ci si senta o ci si veda. L'amicizia disinteressata è insomma la forma più nobile e sublime di amicizia, che sotto certi aspetti rasenta l'amore e dunque il concetto di filia in questo caso è borderline con il rispettivo concetto di agape, cioè di amore, anche se non dobbiamo proiettare valenze cristiane sul pensiero aristotelico. Terminata l'etica, passiamo dunque alla politica. Nella politica Aristotele si occupa dei vari tipi di stato, a differenza di Platone che aveva descritto nella Repubblica uno stato ideale. Aristotele ci parla invece di stato e stati in termini di genesi ed evoluzione, partendo dal primo tassello prestatale che è la famiglia, più famiglie sono un villaggio, più villaggi danno vita alla città o polis o stato. Aristotele riconosce inoltre tre forme di governo che possono degenerare se portate all'estremo. La monarchia o governo di uno che se fuori controllo degenera in tirannide, aristocrazia o governo dei migliori che può degenerare in oligarchia o governo di pochi privilegiati, politeia o repubblica ovvero il governo dei più che può degenerare in democrazia, ovvero secondo Aristotele governo demagogico delle fazioni di piazza. Nella politica troviamo anche la ben nota associazione cittadino uguale uomo libero e dunque l'esclusione di schiavi stranieri dalla cittadinanza. Alla luce dei moderni diritti civili Aristotele è un razzista ed è quindi chiaro che non si può alleggere Aristotele dal punto di vista dei diritti civili. Aristotele va letto calato nel suo tempo, calato all'interno delle logiche del mondo antico che poi del resto ritroviamo anche nel mondo romano. Per Aristotele il cittadino è legato alla polis perché è intrinsecamente connaturato al discorso politico il tema della ragione o meglio dell'uso della ragione per contribuire positivamente alla vita politica. Il cittadino però dispone anche di tempo privato e dunque nei momenti privati il cittadino può dedicarsi, sempre tramite la ragione, agli studi. È questo il ben noto concetto di tempo libero o scolè che corrisponde al latino ozium. Dunque anche per l'uomo greco il cittadino modello opera a metà strada tra ozium e negozium ovvero tempo libero e dovere civico. Lo schiavo e lo straniero non sono strutturati per un discorso di questo tipo. Lo schiavo vive in definitiva con un animale, fatica tutto il giorno, mangia e dorme solo per recuperare le forze e ricominciare tutto da capo il giorno successivo. Riguardo gli stranieri è ben nota l'inferiorità dei persiani ai greci. I persiani hanno un re e sono sudditi laddove i greci hanno la polis e sono cittadini. Chi non ha la polis è dunque considerato inferiore perché passivo dal momento che come lo schiavo chi ha la testa al padrone, il persiano chi ha la testa al proprio re. Altre differenze con la repubblica di Platone consistono nel fatto che Aristotele considera impossibile la proprietà privata perché lo Stato stesso è intrinsecamente eterogeneo in termini di tessuto sociale, aspetto quest'ultimo che determina la non sostenibilità dell'unità platonica. Lo Stato è una pluralità e se si vuole che funzioni non va retto dai filosofi ma dagli anziani, unica autorità, in quanto anzianità è sinonimo di esperienza, capacità di ridurre anche i più libertini all'obbedienza. Ecco un'altra importante differenza con Platone. Platone teorizza i governanti filosofi perché solo chi conosce il bene può attuarlo. Per Aristotele non si tratta di conoscere solo il bene e la giustizia, si tratta di applicarli. La conoscenza teorica fine a se stessa non basta per mandare avanti lo Stato, ci vuole dunque lunga esperienza di governo e un anziano sicuramente l'avrà acquisita e sarà in grado di orientare lo Stato non solo alla guerra ma anche alla pace. Menzioniamo brevemente anche la retorica, ovvero l'arte della persuasione attraverso i discorsi, utile alla formazione di oratori e uomini di Stato che devono confrontarsi in tribunale o in assemblea e devono dunque essere capaci, attraverso la parola, di suscitare sentimenti di collera, pietà, commozione in coloro che ascoltano. Chiudiamo il capitolo Aristotele con la poetica che esamina le varie forme della poesia greca e in quanto arte la poetica in sé ha la virtù, cosa che ci permette di dedurre che per Aristotele la poetica è degna di valore e non a imitazione dell'imitazione come in Platone. Ancora una volta le differenze specifiche tra Aristotele e Platone nella concezione dell'arte dipendono strettamente dalla diversità dei due sistemi filosofici. In un sistema dualistico come quello platonico è ovvio che l'arte diventa imitazione dell'imitazione, in un sistema di immanenza dell'idea alla cosa come quella aristotelico anche l'arte viene rivalutata. La poesia per Aristotele riguarda il verosimile e ha per oggetto ciò che potrebbe accadere a chiunque rispetto alla storia che invece ciò che è già particolarmente accaduto a qualcuno. La poesia ha un campo di azione molto vasto e ha a disposizione vari strumenti espressivi. Il massimo grado espressivo è per Aristotele raggiunto dall'arte drammatica, commedia e tragedia. Gli scritti aristotelici sulla tragedia sono stati conservati mentre quelli sulla commedia sono andati perduti e a tal proposito vi ricordo il noto romanzo di Umberto Eco, il nome della rosa che è totalmente incentrato sul ritrovamento occultamento degli scritti relativi alla commedia di Aristotele, considerati osceni e dunque proibiti nell'abbazia. Ritornando alla tragedia per concludere Aristotele definisce la tragedia come imitazione di un'azione seria e compiuta in se stessa che non viene narrata come nel poema epico ma rappresentata sulla scena mediante attori e dunque capace di arrivare diretta all'animo dello spettatore che assiste con i suoi occhi al dramma rappresentato. Tale meccanismo suscita in chi guarda sentimenti di pietà, orrore, compassione, paura che alla fine della rappresentazione provocheranno tuttavia nello spettatore una catarsi ovvero una purificazione, una liberazione dalle passioni tipiche di ogni animo dal momento che vedendo le passioni umane rappresentate sul palco d'attori osserviamo tali passioni a distanza e possiamo dunque anche noi prendere la dovuta distanza. Naturalmente rispetto al pittore che imita con i colori o al poeta che imita con la voce il teatro l'arte drammatica presenta l'azione vera e propria inscenata nel suo avvicendarsi dall'inizio alla fine del dramma. Aristotele parla di unità dell'azione tragica, unità di luogo, di tempo e di azione che presentano agli occhi dello spettatore vicende che si articolano coerentemente in un dato paese in una determinata epoca e soprattutto secondo un prima e un poi. Tale unità crea una tempesta emotiva in chi guarda che si spaventerà per il semplice fatto che la vicenda di Oedipo potrebbe capitare a chiunque. Contemporaneamente però chi guarda sa che ciò che vede non accade a lui e proprio per questo l'arte sublima le passioni mettendo in parentesi attraverso la distanza scena pubblico tutto ciò che le paure hanno di deteriore pur conservando nella distanza una forte parvenza di realtà che fa del teatro un'arte e in quanto arte, come nota Gadamer, anche il teatro ci aiuta a comprendere l'uomo. E con la poetica chiudiamo questo lungo ciclo di lezioni dedicate ad Aristotele. Dalla prossima volta cominceremo a parlare di filosofia ellenistica, di filosofia romana e chiuderemo con il neoplatonismo questo nostro viaggio all'interno della filosofia antica cominciato con i presocratici perché dopo la chiusura dell'Accademia Platonica d'Opera di Giustiniano di fatto entriamo in una nuova fase del pensiero umano, la filosofia alto medievale. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci alla prossima.